Teatro vuoto, non ha senso! A retroscena, il futuro del teatro, secondo Massimo Popolizio. Dobbiamo immaginare, immaginare, immaginare. E poi Ninni Bruschetta, drammatico quando ricorda gli omicidi di mafia. Il mio nome è Caino perché la prima persona che ho fatto ammazzare era come un fratello. Divertente quando ricorda il suo Duccio Patanè di Boris. Ma stiamo uniti? Un'unica! Martedì e mercoledì, in seconda serata. Michele! Michele!